Salve carissimi, io sono Nick Radogna e oggi sono a Roma perché devo andare a un evento di wrestling ma in Italia E già stiamo parlando del wrestling italiano, l'evento si chiama Break Pro Wrestling E stiamo andando in un posto che si chiama Largo Venio o qualcosa del genere Vabbè, noi andiamo, intervistiamo un po' di persone e godiamoci lo show Però se volete lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram Arrivati, adesso facciamo la fila Allora, sono qua con gli esponenti del wrestling italiano Nome? Miro Nome? Aldo Come descrivereste l'evento? Interessante Sicuramente da non perdere, ma tanti merci di richianti Braccialetto preso e adesso entriamo Qua addirittura abbiamo la sezione merchandising, cosa acquisterai? Tutto, tutto il possibile Essenzialmente qui è praticamente un pub, una birreria Infatti qua abbiamo pure una bella cisterna di birra Ma noi non interessa perché dobbiamo entrare e dobbiamo ammirare il ring Siamo arrivati, tutto questo, il pubblico, tutti i posti che ci sono Ed ecco qua finalmente il ring Un po' al buio però, tanta roba Ed è bello duro il nostro bel pavimento Michael Petsy Plunge, cosa ti aspetti da questo show italiano? Sono carico a bestie, non vedo l'ora di urlare, perdere tutto, tutta la mia farigie E questo qua che rovina sempre tutto Ed eccoci qua, sappiamo iniziare lo show Benvenuti a Break for Wrestling, episode 3 Cheers for Sweet Revenge Ok si inizia, ecco qua l'arbitro Il primo match è un match femminile che noi e Mike chiamiamo la wrestling Viva Matteo! 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 Viva Matteo Viva Matteo! Viva Matteo 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 Viva Matte 1, 2, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 1, 2, 3, 4 Oh Che spettacolo Ha preso il camera, me l'ha preso, voto 2, l'ultimo voto Infortunio su lavoro E finisce anche questo match, tantissima roba Mi sto veramente divertendo a questo show Ed ora siamo arrivati al main event, l'ultimo match di questo show Eccoli qua gli sfidanti It's for the break undisputed championship It's for 1-4 1-4 Claudio Obisio Claudio Obisio Che ne pensi? Cali, Cali, Cali Gari, 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 Gari Gari 1, 2, 3 E ci siamo, l'evento finisce qui, il campione si riconferma campione Bene carissimi il video di oggi termina qui Oh il wrestling italiano proprio bello, non me l'aspettavo quindi è stata un'esperienza veramente top Se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanella Se vi va seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video Ciao carissimi